Tra qualche giorno inizieranno le vacanze natalizie e tutti o quasi tutti tireremo un sospiro di sollievo e faremo meritatamente un periodo di riposo. È l'occasione questa per salutarvi e per farvi gli auguri a nome del governo in occasione di questo anno che termina, un altro anno accompagnato dalla pandemia con i suoi alti e bassi, anzi i suoi bassi e qualche alto che stiamo vivendo in questo periodo. Siamo tutti stanchi, siamo tutti provati, nella popolazione gira anche un po' di rabbia, un po' di risentimento perché una situazione che doveva passare non è ancora passata. Io credo che dobbiamo portare pazienza, dobbiamo un po' sopportare e soprattutto essere convinti che è solo con dei gesti personali a favore di se stessi e a favore degli altri che ne potremo uscire per davvero. Speriamo davvero che il 2022 sia l'anno giusto, ci sono le premesse affinché questo possa succedere. Io voglio quindi augurarvi buone feste, voglio augurarvi un ottimo 2022 e soprattutto incoraggiarvi a stare uniti, a fare in modo che questo periodo difficile diventi un'esperienza, un'esperienza che fa crescere una collettività, che fa in modo che la collettività, quando tutto sarà passato, diventi ancora migliore. Buone feste a tutti!